Ciao a tutti e tutte, oggi parleremo delle metatecniche e della struttura di Tutti hanno un segreto. Tutti hanno un segreto è diviso in capitoli, in sette capitoli più un prologo e un epilogo. I sette capitoli durano tra le due e le quattro ore l'uno. Ogni capitolo è introdotto da un narratore, una voce fuori campo, un file audio e una persona qualsiasi della banda, non importa chi sia, è uno di noi. Racconterà la storia dei due giorni che passeremo insieme, ovvero i giorni dell'ARPI, i giorni in cui la banda si riunisce. Durante l'ascolto di questi file audio non muovetevi e non parlate, sono brevi, durano massimo un paio di minuti, rimanete fermi e ascoltate. Il narratore ci darà spunti, ci darà informazioni e ci suggerirà cose da fare a volte appena finito l'ascolto, ci darà anche tanta atmosfera. In tante storie di questo genere si racconta sempre da fuori come se fosse già successo. Le metatecniche che abbiamo messo sono modi, procedure, regole per approfondire i temi centrali del gioco e per aumentare l'impatto emotivo del gioco, che è quello che conta di più. Siccome siamo negli anni 80-90, abbiamo pensato che queste metatecniche possano essere ben rappresentate da una metafora. Immaginate un videoregistratore. Durante il gioco sei nel presente, giochi esattamente quello che sta succedendo, è come se avessi premuto il tasto play e stessi guardando il film di quello che accade. Ma in alcuni momenti specifici vi daremo la possibilità di schiacciare altri tasti. Per esempio rewind, il tasto ci fa tornare indietro. Perché? Perché il convento è pieno di sensazioni e di ricordi. Se per esempio vuoi giocare una scena del passato, di quando eravate ragazzini, esiste una stanza con le luci spente, in stile black box, in cui puoi portare, quando vuoi, qualcuno dei giocatori e lì, varcata la soglia, non siete più nel presente, non siete più negli anni 80-90, non siete più i due adulti che si rivedono dopo tanto tempo, ma siete i due amici d'infanzia, o i due nemici d'infanzia, due che hanno appena litigato, e potrete giocare qualche minuto di questa scena, inventata da voi o prendendo degli spunti che abbiamo lasciato nella stanza, per giocare brevemente questa scena e poi tornare in gioco come se niente fosse. Ma nella mente, da giocatori, avete già, avete ancora le emozioni che avete provato e potrete svilupparle in gioco. Poi c'è il tasto pausa, quando si usa, c'è un vecchio telefono nel convento, è abbandonato, la linea è staccata da anni e nessuno ricorda più il numero, eppure sarà possibile usarlo, non sarà un telefono realistico, potrete prendere il telefono e chiamare. Chiamare chi? Chiamare qualcuno di voi potrebbe dire che è la sua coscienza, che è una voce interiore, e in quel momento siete come in un fermo immagine, ciò che sta succedendo, i vostri amici che ridono, scherzano, che litigano sullo sfondo, non li ascoltate, siete solo voi con la cornetta, che parlate con voi stessi di cosa, del vostro dilemma. È il momento, durante quei giorni, di decidere se agire o no e pagarne il prezzo. Poi c'è il tasto forward, che manda in avanti velocemente. In questo gioco, per esempio in questo LARP, la struttura è che si inizia dalla fine, per cui la prima scena che giocheremo in verità sarà la scena che concluderà il LARP. La giocheremo all'inizio, per qualche minuto. Dopodiché, finiti questi minuti, la scena verrà come tagliata e si ripartirà con l'arrivo all'incontro, al monastero, al convento, quindi come se foste appena arrivati, ma abbiamo appena giocato parte del finale. Poi si rinizia a giocare normalmente, questa prima scena, che in verità è l'ultima, che abbiamo giocato, tornerà altre due volte. Una volta a metà dell'ARP, e sarà un po' più lunga, quindi vedremo lo svelamento che va un po' più avanti, poi si ritornerà nel gioco, diciamo, normale della vita quotidiana, e questa scena tornerà l'ultima volta alla fine, questa volta lunga nella sua interezza, e ci spiegherà come è finito il gioco. Quindi si andrà avanti e indietro con dei flash forward e poi dopo con delle scene nel presente. Non preoccupatevi, perché prima del gioco faremo dei workshop che vi renderanno tutto ciò familiare, proveremo, spiegheremo, risponderemo alle vostre domande. Nelle altre parti del workshop, oltre alle metatecniche, parleremo anche delle relazioni tra i personaggi, faremo qualche esercizio, qualche legame in più tra i personaggi, inventeremo degli aneddoti e dei ricordi delle storie d'infanzia, e creeremo quindi questo vissuto dell'orfanotrofio. Ci divideremo anche in gruppi, in cerchie più ristrette, per fare anche storie, creare storie, intrecciare storie all'interno del nostro gruppo di amici, nella nostra cerchia. E cosa conta di più? Conterrà di più, in questo workshop, calcare sull'interpretazione del personaggio, seguire la tua scheda, collaborare, e vedrete che tutto andrà bene, finché si seguiranno le emozioni e le metatecniche, per quanto possano ad alcuni di voi sembrare astratte, in verità vi aiuteranno a fare questo. Un'altra cosa che ci piace specificare è che l'ARP non ha il cosiddetto doppio fondo, o falso finale, o plot twist, cioè anche se qualcosa potrà sembrarvi strano, surreale durante il gioco, è una scelta di design per rispettare i canoni narrativi di queste storie, a metà tra l'infanzia e l'età adulta. Però non finiremo il gioco con è tutto un sogno, oppure in realtà siamo tutti morti, o siamo tutti i pensieri di una persona, non è, diciamo, quel tipo di storia. Un'altra cosa alla quale teniamo molto sono l'inclusione e la sicurezza, teniamo molto ai nostri giocatori, alle nostre storie e a chi organizza il LARP. Cerchiamo di fare in modo che sia una comunità il più inclusiva e rispettosa possibile. Per questo motivo ci teniamo a sottolineare che il rispetto tra giocatori, tra di loro e giocatori con lo staff, è fondamentale. E di utilizzare sempre il vostro buonsenso e la vostra coscienza per non mettere mai altre in situazioni pericolose o spiacevoli, che voi non vorreste vivere in prima persona. Per questo non ci sarà violenza fisica, nemmeno simulata, se non nei limiti che vorremmo decidere insieme e di cui vi parleremo durante il workshop. Inoltre sarà sempre presente una safety room, quindi una zona in cui potrete andare se vi sentite per qualche motivo sotto stress o qualcosa è andato male. Se avete bisogno di aiuto, noi ci siamo. Oltre alla safety room c'è il safety team, tutti gli organizzatori si prenderanno cura di voi, ma alcuni in particolare che vi presenteremo prima del gioco saranno le persone dalle quali andare se avete bisogno di qualcosa. E inoltre c'è sempre la possibilità di lasciare il gioco in qualsiasi momento o qualche scena che sta diventando troppo sovraccarica emozionalmente dicendo io qui ho chiuso, dicendo questa frase che poi ripeteremo prima del gioco e proveremo tutti insieme, si può lasciare il gioco in modo, e nessuno potrà affervarvi, il modo da prendervi la pausa che vi serve per poi tornare in gioco. Come sempre se avete necessità specifiche avvisateci e saremo pronti ad ascoltarvi. Per concludere alcune informazioni di tipo pratico portatevi dietro il costume, uno o più costumi o più elementi a seconda di quello di cui avete bisogno, i vostri effetti personali, l'asciugamano, lo spazzolino, il dentifricio, un paio di lenzuola per un letto singolo o una federa o altrimenti un sacco a pelo se preferite perché la struttura ci darà le coperte ma non le lenzuola per i letti e si dormirà in stanze doppie. È consigliabile inoltre portarsi un abito o indumenti più pesanti o anche da mettere sotto perché è una struttura antica e non si sa mai neanche il clima cosa potrebbe riservarci. Benissimo e grazie per aver seguito questo video, è tutto per questo contenuto, non vediamo l'ora di giocare con tutti e tutte voi. Ciao!